Melissa Satta adora il Natale, anche lei quest'anno decide di anticipare le decorazioni insieme al figlio Maddox, 6 anni, avuto da Kevin Prince Boateng. Archiviata la brutta avventura con il Covid, è tempo di pensare solo alle cose belle e allora l'ex velina e il suo bimbo si danno da fare per decorare l'albero di Natale. Neve, palline, festoni, basta poco per rendere la casa accogliente e pronta per le feste. Nessuna notizia di Boateng, la coppia non si fa vedere insieme da tempo, chissà se la famiglia trascorrerà il Natale insieme.